Socrate è stato un filosofo greco antico ed è considerato uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale. Nasce ad Atene nel 470 a.C. e muore sempre ad Atene nel 399 a.C. Paradossale fondamento del pensiero socratico è il sapere di non sapere, un'ignoranza intesa come consapevolezza dell'impossibilità di una conoscenza definitiva, che diventa però movente fondamentale del desiderio di conoscere quanto più possibile. La figura del sapiente, secondo Socrate, è quindi completamente opposta a quella del saccente, ovvero del sofista che si ritiene sapiente e che si vende agli altri come tale, in particolare di una sapienza tecnica come quella della retorica. Nel testo di Platone intitolato Apologia di Socrate ci viene descritta la genesi della celebre espressione appunto sapere di non sapere. Cherofonte, un amico di Socrate, chiede alla sacerdotessa dell'oracolo di Apollo ad Elfi, chiamata Pizia, chi sia l'uomo più sapiente del mondo e questa risponde che appunto l'uomo più sapiente del mondo è Socrate. Socrate stesso però sa di non essere il più sapiente e quindi cerca di dimostrare come l'oracolo si sia sbagliato andando a dialogare con quelli che avevano fama di essere molto sapienti, cioè i poeti, gli artigiani e in particolare i politici. Alla fine dei vari confronti però, racconta Socrate, messi di fronte alle proprie contraddizioni e inadeguatezze, questi presunti saggi provano stupore e smarrimento, apparendo per quello che in realtà sono, dei presuntuosi ignoranti che non sanno di essere tali. Citiamo appunto dall'apologia di Socrate, aperte virgolette, allora capì che veramente io ero il più sapiente perché ero l'unico a sapere di non sapere, a sapere di essere ignorante, chiuse virgolette. Con la sua incessante attività di studio e di ricerca, Socrate finisce però per mettere in luce quasi involontariamente l'impreparazione della classe politica dell'epoca, attirandosi così l'odio di molti potenti che lo accusano di voler istigare la contestazione giovanile insegnando tramite l'uso critico della ragione a rifiutare i precetti della tradizione e quelli religiosi. Secondo alcuni studiosi, Socrate è stato il primo filosofo occidentale a evidenziare il carattere personale dell'anima umana. Sebbene la tradizione orfica e quella pitagorica avessero già identificato l'essere umano con la sua anima, in Socrate la parola anima assume significati del tutto nuovi, soprattutto dal punto di vista etico. Citiamo ancora dall'Apologia di Socrate, aperte virgolette, Tu, ottimo uomo, poiché sei ateniese, cittadino della polis più grande, più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle ricchezze per guadagnarne il più possibile e della fama e dell'onore e invece non ti occupi e non ti dai pensiero della saggezza, della verità e della tua anima perché diventi il più possibile buona, chiuse virgolette. Ecco abbiamo parlato della tradizione orfica quindi ricordiamo velocemente che l'orfismo è un movimento religioso nato in Grecia, presumibilmente attorno al VI secolo a.C., intorno alla figura di Orfeo, un personaggio della mitologia greca che rappresenta l'artista per eccellenza, ma anche lo sciamano in grado di parlare con i morti e di incantare gli animali. Tornando a Socrate, egli fa quindi coincidere l'anima con l'io, cioè con la coscienza pensante di ogni essere umano, di cui egli stesso si propone come maestro e curatore. Non sono quindi i sensi a esaurire l'identità di un essere umano, come insegnavano i sofisti. L'uomo non è solo corpo ma anche ragione, conoscenza intellettiva, cioè conoscenza tramite l'uso dell'intelletto, della ragione. Conoscenza intellettiva che ogni essere umano deve usare per indagare e conoscere in profondità la propria essenza. Ricordiamo che i sofisti erano invece considerati maestri di virtù che si facevano pagare per i loro insegnamenti e per questo motivo vengono aspramente criticati dai loro contemporanei, soprattutto da Platone e Aristotele, e offensivamente chiamati prostituti della cultura. Quindi, riassumendo, l'Apologia di Socrate ci dice che lo specifico messaggio filosofico di Socrate è appunto quello di una nuova visione dell'anima umana e l'esortazione a prendersi cura dell'anima stessa. Socrate afferma di credere oltre agli dei riconosciuti dalla polis anche ai daimon, esseri che si trovano a metà strada fra ciò che è divino e ciò che è umano e che fungono da intermediari tra queste due dimensioni. Il daimon socratico assume la forma di una sorta di voce interiore che si mette in comunicazione con lui, con Socrate stesso, per dissuaderlo dal compiere certe azioni e per spronarlo a discutere, a confrontarsi e a ricercare la verità morale. Bene, passiamo adesso alla maieutica. Il termine maieutica viene dal greco maieutiche e sottointeso tecne, che letteralmente significa l'arte dell'allevatrice o dell'ostetrica, come diremmo oggi, e indica il metodo socratico così come lo espone Platone nel suo dialogo risalente al periodo della maturità intitolato teeteto. L'arte dialettica, cioè l'arte del dialogare, del discutere, viene paragonata da Socrate a quella della levatrice, che era anche il mestiere di sua madre. Con la sua attività infatti Socrate vuole tirare fuori dall'allievo pensieri assolutamente personali, al contrario di quanti, come i sofisti, volevano invece imporre le proprie idee agli altri per mezzo della retorica. Parte integrante di questo metodo è il ricorso a battute brevi, tecnica chiamata brachilogia, anziché ai lunghi discorsi la macrologia, caratteristici appunto del metodo retorico dei sofisti. Nel teeteto di Platone Socrate afferma, aperte virgolette, il significato più grande di questa mia arte, la maieutica, è che io riesco, mediante di essa, a discernere con la maggior sicurezza, se la mente del giovane partorisce fantasticheria e menzogna oppure cosa vitale e vera. E' proprio questo io ho in comune con le levatrici. Anche io sono sterile, sterile in sapienza. E' il rimprovero che già molti mi hanno fatto che io interrogo gli altri, ma non manifesto mai, su nulla, il mio pensiero, è verissimo rimprovero. Io stesso dunque non sono affatto sapiente, né si è generata in me alcuna scoperta che sia frutto dell'anima mia. Quelli invece che entrano in relazione con me, anche se da principio alcuni d'essi si rivelano assolutamente ignoranti, tutti poi, seguitando a vivere in intima relazione con me, purché l'io lo permetta loro, meravigliosamente progrediscono, come si stessi e gli altri ritengono. Ed è chiaro che da me non hanno mai appreso nulla, ma che essi, da sé, molte belle cose hanno trovato e generato. Chiuse virgolette. Molto bene, questo video termina qui, spero vi sia utile. Come sempre un sincero grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima.